Alleluia Gesù e il Signore. Qua c'è gioia a tutti voi fratelli, io sono sola Adriana della diocesi di Assisi Foligno e con grande gioia che vi voglio presentare un'iniziativa meravigliosa del rinnovamento dello spirito che per la prima volta in questo anno del giubileo d'oro del rinnovamento in Italia propone a tutte le consacrate e alle religiose ed è la prima volta perché come consuetudine tutti gli anni i religiosi e i sacerdoti si incontrano ad Assisi come tradizione ma speriamo che anche noi come consacrate religiose possiamo incontrarci tutti gli anni come loro. Allora quest'anno il rinnovamento propone dall'11 al 16 luglio gli esercizi spirituali per tutte le religiose e le consacrate dal tema rinnovate dallo spirito per un ministero di gioia ed entreremo ancora più profondamente nella parola in Romani 12 al primo versetto dove dice per la misericordia di Dio offrite i vostri corpi come sacrificio vivente santo e gradito a Dio questo è il vostro culto spirituale. Sì fratelli e sorelle questo è il nostro culto spirituale perché come dice il nostro presidente del rinnovamento Salvatore Martinez è un tempo di rinascita spirituale un tempo di preghiera di discernimento di formazione ma soprattutto per non perdere la gioia dell'esultanza di Maria per vivere una perenne pentecoste come ci chiama e ci invita Papa Francesco. Allora sorelle con veramente con tanta gioia dall'11 al 16 luglio ci incontriamo tutte a Santa Maria degli Angeli ad Assisi per vivere nella terra di Francesco questa meravigliosa esperienza nello spirito. Vi aspettiamo per potersi iscrivere e per le prenotazioni consultate il nostro sito www.rinnovamento.org pace e gioia a tutte voi